La pace sia con voi e con il tuo spirito. Dal Libro dei Salmi A te grido, Signore, mia roccia, con me non tacere. Se tu non mi parli, sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo Tempio. Sia benedetto il Signore, che ha dato ascolto alla voce della mia supplica. Il Signore è mia forza e mio scudo, in Lui ha confidato il mio cuore. Mi ha dato aiuto, esulta il mio cuore. Con il mio canto voglio rendergli grazie. Parola di Dio Du Livre d'Epsomme Seigneur, mon rocher, c'est toi que j'appelle. Ne reste pas sans me répondre, car si tu gardais le silence, je m'en irais moi aussi vers la tombe. Entends la voix de ma prière quand je crie vers toi, quand j'élève les mains vers le Saint des Saints. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Le Seigneur est ma force et mon rempart. A Lui mon cœur fait confiance. Il m'a guéri, ma chair a refleuri. Mes chants lui rendent grâce. Parole du Seigneur A reading from the Book of Psalms. To you, O Lord, I call. My rock, hear me. If you do not heed, I shall become like those in the grave. Hear the voice of my pleading as I call for help, as I lift up my hands in prayer to your holy place. Blessed be the Lord, for he has heard my cry, my appeal. The Lord is my strength and my shield. In him my heart trusts. I was helped, my heart rejoices, and I praise him with my song. The word of the Lord. Aus dem Buch der Psalmen Zu dir rufe ich, Herr, mein Fels, wende dich nicht schweigend ab von mir. Bleibst du vor mir stumm, Wurde ich denen gleich, die zur Grube hinuntersteigen. Höre mein lautes Flehen, wenn ich zu dir schreie, wenn ich meine Hände zu deinem Allerheiligsten erhebe. Der Herr sei gepriesen, denn er hat mein lautes Flehen gehört. Der Herr ist meine Kraft und mein Schild. Auf ihn vertraut mein Herz, so wurde mir geholfen. Da jubelte mein Herz, mit meinem Lied will ich ihm danken. Wort des lebendigen Gottes. Del Salmo 28 A ti te llamo, Señor, roca mía, no seas sordo a mi voz, no sea que, si guarda silencio, me ocurra como a los que bajan a la tumba. Escucha la voz de mi plegaria cuando a ti grito, y elevo mis manos hacia tu templo santo. Bendito sea el Señor que ha escuchado la voz de mi oración. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confiaba en Él y me socorrió. Por eso mi corazón se alegra y le canto agradecido. Palabra de Dios. Leitura do Livro dos Salmos A voz yo clamo, oh Señor, oh mi rochedo. No fídeo surdo a mi voz. Si no me ouvirdes, yo tereí a triste sorte de los que desce al sepulcro. Escucha el mi clamor, a mi súplica, cuando yo grito para vos, cuando yo elevo, oh Señor, las mis manos para el vosso santuario. Bendito sea el Señor porque o ouviu el clamor de mi súplica. Mi fuerza y escudo es el Señor. Mi corazón en Él confía. Él ayudó-me y alegró mi corazón. Yo canto en fiesta el Señor. El Señor es el louvor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Al-Shopo al-Lila Al-Shopo al-Lila Al-Shopo al-Lila Al-Shopo al-Lila Buongiorno Continuiamo con le nostre riflessioni sulla preghiera La preghiera cristiana è pienamente umana Noi preghiamo come persone umane Come quello che siamo Comprende la lode e la supplica Infatti quando Gesù ha insegnato ai Suoi discepoli a pregare Lo ha fatto con il Padre Nostro affinché ci posniamo con Dio nella relazione di confidenza filiale E gli rivolgiamo tutte le nostre domande Imploriamo Dio per i doni più alti La santificazione del Suo nome tra gli uomini L'avento della Sua Signoria La realizzazione della Sua volontà di bene nei confronti del mondo Il Catechismo ci ricorda Nelle domande esiste una gerarchia Prima di tutto si chiede il regno Poi ciò che è necessario per accoglierlo E poi cooperare al suo avvento Ma nel Padre Nostro preghiamo anche per i doni più semplici Per i doni più feriali Come il pane quotidiano Che vuol dire anche la salute, la casa, il lavoro Le cose di tutti i giorni Eppure l'Eucaristia, può dire Necessaria per la vita in Cristo Così come preghiamo per il perdono dei peccati Che è una cosa quotidiana Avevamo bisogno sempre di perdono E quindi la pace nelle nostre relazioni E infine che ci aiuta nelle tentazioni Che ci libera e ci dà il malo Chiedere, supplicare Questo è molto umano Ascoltiamo ancora il Catechismo Con la preghiera di domanda Noi esprimiamo la coscienza della nostra relazione con Dio In quanto creatore Non siamo noi il nostro principio Ne siamo padroni dell'avversità Ne siamo il nostro ultimo fine Anzi, per di più, essendo peccatori Noi come cristiani sappiamo Che ci allontaniamo dal Padre La domanda è già un ritorno a Lui Se uno si sente male perché ha fatto delle cose brutte E un peccatore Quando prega il Padre nostro Già si sta avvicinando al Signore A volte noi possiamo credere di non aver bisogno di nulla Di bastare a noi stessi E di vivere nell'autosufficienza più completa E dalle volte succede questo Ma prima o poi questa illusione svanisce L'essere umano è un'invocazione Che a volte diventa grido Spesso trattenuto L'anima assomiglia a una terra arida Assettata Come dice il Salmo Tutti sperimentiamo in un momento o nell'altro Della nostra esistenza Il tempo della malinconia O della solitudine La Bibbia non si vergogna Di mostrare la condizione umana Segnata dalla malattia Dalle ingiustizie Dal tradimento degli amici O dalle minacce dei nemici A volte sembra che tutto crolli Che la vita vissuta finora sia stata vana In queste situazioni Quando sembra che tutto crolli In queste situazioni Apparentemente senza sbocchi C'è un'unica via di uscita Il grido La preghiera Signore aiutami La preghiera apre squarci di luce Nelle tenebre più fitte Signore aiutami Questo apre Apre la strada Apre il cammino Noi esseri umani Condividiamo questa invocazione di aiuto Con tutto il creato Non siamo i soli a pregare In questo sterminato universo Ogni frammento del creato Porta iscritto il desiderio di Dio E San Paolo proprio Lo ha spesso in questo modo Dice così Sappiamo che tutta Insieme la creazione Gemme E soffre Delle doglie del parto Fino ad oggi Non solo Ma anche noi Che possediamo le primizie dello spirito Gemmiamo interiormente Bello questo In noi risuona Il moltiforme gemito Delle creature Delle alberi Delle rocce Delle animali Ogni cosa Anela un compimento Ha scritto Tertuliano Prega ogni essere creato Pregano gli animali E le fiere E priegano le ginocchia Quando escono Dalle stalle O delle tane Alzano la testa al cielo E non rimangono A bocca chiusa E fan risuonare Le loro grida Secondo le loro abitudini E anche gli uccelli Appena spiccano il volo Vanno su Verso il cielo Allargano le loro ali Come se fossero Mani E a forma di croce Cinguettano qualcosa Che pare preghiera Questa è un'espressione poetica Per fare un commento A quello che San Paolo dice Che tutto il creato Gemme e prega Ma noi Siamo gli unici A pregare Coscientemente Sapere che Ci rivolgiamo al Padre E entrare in dialogo Con il Padre Dunque Non dobbiamo scandalizzarci Se sentiamo il bisogno Di pregare Non avere vergogna E soprattutto Quando siamo nella necessità Chiedere Gesù parlando di un Di un uomo Disonesto Che deve fare i conti Con il suo padrone Dice questo Chiedere Mi vergogna E tanti di noi Abbiamo questo sentimento Abbiamo vergogna di chiedere Di chiedere di un aiuto Di chiedere Qualche cosa A qualcuno Che ci aiuti A fare Per arrivare A quello scopo E anche vergogna Di chiedere a Dio Questo non si può fare Non avere vergogna Di pregare Signore Ho bisogno di questo Signore Sono in questa difficoltà Aiutami Il grido Il grido Del cuore Del cuore Verso Dio Tuttavia Non soffochiamo Anteriore Che può magari Tagere per lungo tempo Ma un giorno Si sveglia Si sveglia E grida E fratelli e sorelle Sappiamo che Dio Risponderà Non c'è orante Nel libro Dei salmi Che alzi Il suo oramento E resti Inascoltato Dio Risponde sempre Oggi Domani Ma sempre Risponde Di un modo O dell'altro Sempre risponde La Bibbia Lo ripete Infinite volte Dio ascolta Il grido Di chi lo invoca Anche le nostre domande Balbettate Quelle che Rimaste nel fondo Del cuore Che abbiamo Anche vergogna Di esprimerli Il Padre Le ascolta E vuole Donarci Lo Spirito Santo Che anima Ogni preghiera E trasforma Ogni cosa Fratelli e sorelle Nella preghiera Sempre c'è Questione di pazienza Sempre Di reggere La tessa Adesso siamo In tempo Di avvento Un tempo Tipicamente Di attessa Di attessa Per il Natale Non siamo in attessa Questo si vede bene Ma anche Tutta la nostra vita È in attessa E la preghiera È in attessa Sempre Perché Sappiamo che Il Signore Risponderà Perfino La morte Trema Quando un cristiano Prega Perché sa Che ogni orante Che ogni orante E queste grande feste Natale La Pasqua Ma il Signore Ma il Signore ci visita Ogni giorno Ma se tu Ma se tu hai Hai le orecchie Piene Di altri rumori Non sentirai La chiamata Del Signore Fratelli e sorelle Essere in attessa Questa è la preghiera Grazie Nous recita Nous reciterons Le Notre Père En latin Puis Le Saint Père Donnera La bénédiction Apostolique Il l'accorde Spécialement Aux enfants Aux personnes Agées Aux malades Et aux personnes Qui sont dans l'épreuve Voici le résumé En français De la catéchèse Que vient de prononcer Le Saint Père Frères et sœurs Dans le Notre Père Jésus nous enseigne A prier En nous plaçant Dans une relation De confiance filiale A l'égard de Dieu Pour lui adresser Toutes nos demandes Parfois Nous pouvons croire Que nous n'avons besoin De rien Que nous pouvons Vivre en autosuffisance Mais tôt ou tard Cette illusion S'évanouit À un moment Ou l'autre De notre vie Nous faisons L'expérience De situations Apparemment Sans issue Où il n'y a Qu'une seule voie De sortie Le cri La prière Seigneur Aide-moi La prière Ouvre des trouées De lumière Dans les ténèbres Les plus épaisses Et nous ne sommes Pas les seuls A prier Dans l'immense Univer Toute la création Porte inscrit En elle Le désir De Dieu En nous Résonne Le gémissement Multiforme Des créatures Nous ne devons Donc pas Nous scandaliser Si nous sentons Le besoin De prier Surtout Lorsque nous sommes Dans le besoin Et dans les moments Heureux Nous devons Remercier Dieu Pour tout Ce qu'il nous a donné Et ne rien Retenir Comme un dû Tout est grâce La prière De demande Va de pair Avec l'acceptation De nos limites Et du fait Que nous sommes Des créatures La Bible De la solennité De l'immaculata Concezione Apprenons De la Vierge Marie A nous tourner Avec confiance Vers son fils Jésus Et confions-lui Toutes nos demandes Pour qu'elle Les lui présente Que Dieu Vous bénisse Most Holy Father The English-speaking Faithful Joining us Through the media Wish to express To you Their sentiments Of respect And esteem And to assure you Of their prayers For your ministry As the successor Of Peter At the end Of the audience We will recite Together The Our Father In Latin The Holy Father Will then impart His apostolic blessing Which he willingly Extends to all Children and young people The elderly And the sick The following Is a summary Of the Holy Father's Words this morning Dear brothers and sisters In our continuing Catechesis On Christian prayer We now turn To the prayer Of petition The catechism Explains That in every prayer We ask for the coming Of God's kingdom In our lives And in our world Jesus taught us To pray To pray to our heavenly Father Acknowledging Our total dependence On him And trusting entirely In his providential care Even at the darkest Moments in our lives Prayer of petition Arises naturally In human hearts In the Bible We see countless Prayers to God To intervene In the face Of our helplessness Before situations Of sickness Injustice Betrayal And despair Even the simple cry Lord help me Is itself A powerful prayer God always hears The cry of those Who call upon him St. Paul tells us That our prayers Echo the yearning Of all creation For the coming Of the kingdom And the fulfilment Of God's saving plan We make our prayers Of petition With confidence In him Who has triumphed Over all evil Through the cross And resurrection Of his son And the sending Of the Holy Spirit Who intercedes On our behalf And quietly works To transform All things The Holy Father Will now greet The English-speaking Faithful In Italian I cordially greet The English-speaking Faithful I pray that The light of Christ May illuminate Our journey In this event And then dispel The fear From our hearts Upon you And your families I invoke the joy And peace Of our Lord Jesus Christ God bless you God bless you Heiliger Vater Die gläubigen Deutscher Sprache Die über Rundfunk Und Internet Teilnehmen Bekunden Ihnen Dem Nachfolger Des heiligen Petrus Aufrichtige Verbundenheit Dankbarkeit Und Verehrung Sie versichern Sie Zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens Für Ihren apostolischen Dienst als Hirte Der universalen Kirche Danach wird der heilige Vater allen Den apostolischen Segen erteilen Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein Besonders die Kranken Die Kinder Und die älteren Menschen Es folgt nun Eine Zusammenfassung Der Katechese Des heiligen Vaters In deutscher Sprache Liebe Brüder und Schwestern In unseren Katechesen Über das Gebet Befassen wir uns heute Mit dem Bittgebet Im Vaterunser Nannte Jesus Den Jüngern Die wichtigsten Bitten Mit denen sie sich In kindlichem Vertrauen An den himmlischen Vater Wenden sollen Zunächst geht es Um das Streben Nach dem Reich Gottes Und um alles Was notwendig ist Um es aufzunehmen Und zu fördern Dann handelt es Vom täglichen Brot Von Haus, Arbeit Und unserem Wohlergehen In der Welt Schließlich spricht Das Vaterunser Den Bereich von Sünde Und Versuchung an Und die zentrale Rolle Der Vergebung In allen Bitten Wird deutlich Dass wir mit unserem Dasein Völlig auf Gott bezogen sind Und unsere Grundhaltung Im Gebet Die Anrufung Gottes Und seine Hilfe ist So findet das Seufzen Der ganzen Schöpfung Nach Erlösung In unserem Beten Widerhall Deshalb brauchen wir uns Nicht zu schämen Wenn wir uns Vor allem Mit Bitten An Gott wenden Das spontane Flehen Im auferstandenen Herrn Hat Der ihn zum Leben Und zur Glückseligkeit Führen will Es folgt nun Ein Gruß Des Heiligen Vaters An die deutschsprachigen Pilger In italienischer Sprache I greet all the faithful In the German language Let us not forget To pray for those Who need consolation And strength In this period Of Advent Let us be Near those Who Suffer May the Lord Who is coming Fill us With his joy And strength Der Heilige Vater Hat sich mit folgenden Worten An die Anwesenden gewandt Von Herzen Grüße ich Die Gläubigen Deutscher Sprache Vergessen wir nicht Unser Gebet Für alle Die Trost Und Kraft brauchen In dieser Adventszeit Wollen wir uns Noch mehr dafür einsetzen Denen nahe zu sein Die Leiden Und Hilfe brauchen Der Herr Der kommen wird Erfülle uns Mit seiner Freude Und schenke uns Seine Kraft Santo Padre Los fieles De lengua española Que siguen Esta catequesis A través De los medios De comunicación Now Is the summary Of the Pope's Catequesis In the Spanish Language Al final de este encuentro Queridos hermanos y hermanas La oración cristiana Es plenamente humana Porque abraza la alabanza Y la súplica Encontramos esta realidad En la oración que Jesús nos enseñó Al Padre nuestro Modelo de toda oración Nos dirigimos a Dios Como hijos Y con confianza filial Le presentamos Todas nuestras necesidades Le suplicamos Los dones más sublimes Empezando con la santificación De su nombre Y la venida de su reino Y también los dones Más sencillos Como el pan de cada día Que incluye salud Casa, comida Necesario para nuestra vida corporal Y también la Eucaristía Para nuestra vida espiritual Pedir Suplicar Es algo muy humano Ya que como criaturas No somos autónomos Sino que dependemos De la bondad del Señor Prueba de ello Es la precariedad De nuestra condición humana Marcada por la enfermedad Por las injusticias La soledad Y el sufrimiento Cuando parece que todo Está perdido Sentimos la necesidad De rezar a Dios La oración Ilumina la oscuridad interior Que nos angustia Y nos abre la esperanza Nosotros seres humanos Compartimos esta invocación De ayuda al Señor Con toda la creación Que lleva impreso El anhelo de Dios Y ansía alcanzar Su realización Y nuestro consuelo Es la seguridad De que Él Escucha siempre Nuestras súplicas Y responde A nuestros ruegos Como Padre amoroso Saludo cordialmente A los fieles A los fieles De lengua española Hoy conmemoramos A San Juan Diego A quien Nuestra Señora De Guadalupe Escogió como su enviado Que a través De su intercesión Presente a la Virgen En los países De América Latina Damnificado por la pandemia Y los desastres naturales Para que ella Como madre Salga al encuentro De sus hijos Y los cubra Con su manto Pidamos además Al Señor Que infunda En nosotros Su Espíritu Santo Para que vivifique Nuestra oración Y transforme Nuestro corazón Abriéndolo Al servicio De la caridad Que el Señor Los bendiga Santo Padre Os fiéis De lengua portuguesa Conectados A esta audiência Através Dos meios De divulgación social Descambio De la Catequesis En la lengua portuguesa Que acompañan Com as suas orações Pelas vossas intenções E pelo vosso ministério De sucessor de Pedro Ao final da audiência Rezaremos o Pai Nosso Em latim Após a oração O Santo Padre Nos concederá A benção apostólica De modo especial Às crianças Aos idosos Aos doentes E a todos Os que sofrem Leio agora Um resumo Da catequese Que o Papa Francisco Acaba de propor A oração cristã É plenamente humana Inclui o louvor Mas também A súplica Quando os discípulos Pedem a Jesus Que lhes ensine a rezar Ele o faz Com a oração Do Pai Nosso Nesta Pedimos a Deus Os dons mais elevados Mas também As coisas mais simples Como o pão Como o pão De cada dia O perdão E o auxílio divino Nas tentações Pedir Suplicar Isto É muito humano Somos criaturas Que pelo pecado Nos afastamos De Deus A oração De súplica É um retorno A Ele A ilusão Da autossuficiência Do ser humano Rapidamente Se desvanece Quando experimentamos Tempos escuros Momentos difíceis Nestas situações Aparentemente Sem solução Nossa única saída É a súplica Ajudai-me Senhor Esta oração Permite que Suaves Faixos de luz Penetrem Nas trevas Mais escuras Assim Não devemos Escandalizar-nos Se sentirmos A necessidade De orar Mais intensamente Quando estamos Passando por Dificuldades É verdade Que devemos Aprender a rezar Intensamente Também Nos momentos Bons e alegres Mas jamais Deveríamos Sufocar O clamor Que surge Espontaneamente Nas provações Deus Responderá A Bíblia O repete Várias vezes Deus escuta O clamor De quem O invoca O Pai do céu Quer dar-nos O seu espírito Que anima Cada oração E transforma Todas as coisas Até mesmo A morte Recua Diante De um cristão Que reza Pois Sabe Que o orante Possui Um aliado Mais forte Do que ela O Senhor Ressuscitado A morte Já foi derrotada Em Cristo E virá o dia No qual Tudo será Definitivo E ela não Poderá mais Fazer escárnio De nossa vida E de nossa felicidade Agora O Santo Padre Saudará Em italiano Os fiéis De língua portuguesa Queridos irmãos e irmãs De língua portuguesa Neste tempo De advento Peçamos o auxílio De São José E de Nossa Senhora Para que Seguindo o seu exemplo Possamos também nós Preparar os nossos corações Para acolher O menino Jesus Que está próximo Que Deus Vos abençoe Acompanha E aíua abu lakdas Yassurru lmuminuna Nátikuna Bil lughat al-Arabia Lathina yitabionuna Lathina yitabionuna Abra Now Following now Is a summary Of the Holy Father's Catechesis In the In the Arab In the Arabic language Grazie a tutti. 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 Amén. and with that we come to the end of this week is made with a general audience the Holy Father has imparted his blessing and we would like to wish you a very nice day until next Wednesday thank you for following us thank you thank you